eravamo troppi i redlock avete visto quanti sono solo in dieci titolari è un fesso parlare mi sarei fatto arrestare quando t'hanno messo la carta e te l'hanno piazzato in quel posto sei un fesso che vuol dire mi sarei fatto arrestare tu hai giocato una carta che è quella del turnover fossato che è una carta di merda perché i redlock non si sono portati 12 persone ma che devi fare ti devi fare arrestare in quel momento mi riprendete la carta e me ne date un'altra perché questa è una carta di merda no però non hai capito no non hai capito ne sono usciti tre ne sono entrati tre non ho potuto sceglierli vero e l'hanno scelti loro però è solo quei tre avevano no no quelli tolti quelli tolti li ho scelto io loro sono stati costretti a scegliere quelli che entravano è così sbagliato tu devi scegliere quelli che entrano non quelli che toglie scegli tutti e due lo so ma che cazzo devo fare per arrestare favore per favore c'è una domanda dal direttore prego no no non è una domanda voglio difendere antimo enrix perché sono mai stato anche un po' penalizzato da una da una regola che secondo me va cambiata perché 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 ogni ogni volta che andavano ogni vantaggio di due ma ragazzi ma con i muchachos con i muchachos senza quella regola vincevamo 9 10 a 1 va bene invece con i redlock senza piedi vincevate 4 a 3 con i con i redlock con i redlock c'è stata una cosa che se tu leggessi le partite lo sapresti manfre che ha cambiato l'equilibrio della squadra ed è stato l'ingresso di un centrocampista che era la prima partita che giocava con noi ma che si era fatto il viaggio dalla svizzera e quindi mi avevano chiesto il piacere di farlo giocare tutto qui ma infatti ma infatti nelle prossime due settimane cambieremo tutto lei è sicuro di che sarà nel prossimo settimane sarà l'allenatore no no perché un attimo un attimo un attimo a me sono arrivati voci di mercato non dico altro ma non so non so da chi le sono arrivati perché è vicina a un uomo che potrebbe sostituirla nei prossimi giorni però sì allora immagino io a weddedose abbiamo finito di parlare letteralmente 20 minuti fa abbiamo già programmato tu lo sai quale lo sai quale sarebbe il sostituto Andre a Indyne secondo loro perché hanno messo una storia sulla lanterna e quindi quel pollo di Manfredi ci crede no io non mi è arrivato un whatsapp scusami scemo di guerra ma quando mi hai detto a me che io ho preso gol dal bomber che vale doppio e tu oggi il primo gol che hai preso dal bomber che vale doppio ma infatti lo confermo lì è errore tutto mio tu avevi la carta del turno ragazzi vediamo entro magari dopo Manfredi a fare la riunione domani devi non fare far fare le altre figure di merda la mazzetta vai tanto enerix è fuggito è sparito no volevo chiedergli ma lui visto che aveva la carta del turnover non poteva utilizzarla nel momento in cui il redlock avevano usato il gol doppio su sergio eccomi sono insomma richiamato mi hanno chiamato dimmi no non si possono usare una sull'altra e volete sapere la sfiga ancora più grossa che noi avevamo usato noi avevamo usato la carta che toglieva appunto fichera e fichera abbe e gitteri prima del gol praticamente quando sergei batte quella rimessa dal fondo grazie sento ma questo sta al mcdonald andate via la voce non è male dai raga ma perdonami mi senti però mi senti non ti sentiamo bene non mi senti aspetta intanto è arrivata la classifica appena arriva ve la faccio fare intanto è arrivata la classifica eccola qui redlock 9 oragon 4 eternal stress chi cazzo ha vinto l'oragon con i muchacho ah vanno parriciato l'altra no no sono arrivati i terzi ragazzi è tutto aperto è tutto aperto tutto aperto scusa tutto aperto hai fatto cinque partite nella cotta lì che hai fatto due punti sembri manco coso Andrea Mazzoli è tutto è tutto aperto è tutto aperto per torno a casa no ci sono andata e ritorno con calma ho chiamato tre ore ma lì in questo momento allora Di Mauro Di Mauro oh cv Di Mauro ma sai che non mi sente che lì devi chiedere che lì devi chiedere riferisco no no me lo passi Di Mauro te lo passo proprio si si levi ok vai Di Mauro io gli ho detto gli ho chiesto di venire a essere un uomo decisivo della fucina è andato a fare panchina a una squadra che ha un punto in due partite ma porca risponda risponda Di Mauro per se stesso ma come ha ragione ragazzi ma qui c'è una notizia clamorosa in diretta scusate ma voi mi togliete il giocato fatemi andare via ciao incredibile incredibile sberdato dallo sfogliatoio in diretta ma Di Mauro ha detto ma vieni da noi giochi sempre mi hanno non mi hanno non mi hanno svincolato lo mettono in panchina boh grazie a tutti